Per Windows 11, Microsoft introduce nuove funzionalità che ti aiutano a ottimizzare la produttività e a trovare subito i contenuti e gli strumenti che usi più frequentemente, per avere ciò che vuoi a colpo d'occhio e sempre a portata di mano. Le tue foto preferite, le ultime notizie dal mondo, la lista delle cose da fare di oggi e il meteo di domani. I widget di Windows 11 ti aiutano a trovare tutti i contenuti che ti interessano. Meno disordine e caos, Microsoft ha reinventato il modo in cui un PC dovrebbe funzionare con te e per te. Organizza al meglio le tue finestre, ottimizza lo spazio sullo schermo e massimizza la tua produttività con un semplice click. Lavora, gioca e crea nel modo più naturale per te. Windows 11 ti avvicina a ciò che ami.